Ecco qua, guarda qui, ho portato anche l'olio, la benzina, benzina 5 litri. Mi fa un po' di miscela a due, nel mezzo. Una mistura e mezza di olio, guarda, questa è anche sufficiente. Una dose e mezza di olio, 3 per cento, 5 litri. Guarda lì che, ah lì sei raccipiano perché questa benzina lì è preziosa per il motorino. Ma a te ti fa male, lo so, hai ragione. E ho, io ci faccio anche una bella caggita. Alice mi apri un attimino perché c'è la chiave del motorino, dai. Deo, grazie, un po' di moda. Io ci faccio anche un po' di moda. Mi piace la benzina. Vale. Ecco cosa va in modo, in modo che c'è il motorino in nata. Ma è stata? No, è stata. No, è peu. No, ho il fissized La cattura è pronta, l'esina l'ha fatta e ora si può andare, quindi si chiude la cattura.